ci sono i campi di stagioni qui galantini si addormentato mamma mia che rischio galantini ha messo alto piccirilli blandino da neroni pastorelli con il destro va profondo non riesce ad uscire però alla brentino la davanti con piccirilli la inchioda galantini neroni cottani si chiude il triangolo c'è spazio per ferrari sulla di destra ferrari col destro la lascia lì galantini si salva il laurentino va profondo di maulo palla che supera schiavone arriva dalle parti di piccirilli che fa la lotta con pastorelli che la tocca all'indietro non si è capito con galantini calcio d'angoli 2 di recupero piccirilli ha prolungato il pallone ancora buono per bernardini la palla filtra esce galantini con i tempi giusti in attacco palla su cericola pastorelli subito deve volare di maulo a fare la prima parata della sua partita larga verso 17 che danza sul pallone gioco di suola e poi corridoio per l'otto che allarga dove arriva amici raddoppiato anche amici pastorelli si è chiuso adesso la più latino che però adesso lasciato il buco è buono 17 che trova la porta deviazione l'ultimo tocca di blandino e amanti il laurentino con sofferenza ma soprattutto con la deviazione di blandino bravo pastorelli a saltare la prima linea di pressione discarico del 17 verso il numero 8 che si costruisce la conclusione poi allarga per blandino di maulo con la croce chiude perde un brutto pallone neroni blitz offensione laurentino col numero 8 che fitta la conclusione rimontato ma comunque parità numerica buona la palla al secondo pallo zarola chiude ancora buona per l'otto praticamente in pallina di maulo che la blocca scarico per albanese neroni pressa blandino neroni lo riesce a saltare neroni dal limite palla alta di una spanna reagisce la più latino prova a sfondare solo di destra c'è spazio per amici ancora laurentino di maulo col piedone dice di no palla liftata al secondo pallo campanile nolano al volo nolano in porta allontana bene la difesa esce di maulo ma poi ci ripensa e non esce più la più latino blandino amici si chiude il triangolo il 17 dentro l'area di gore pensa la conclusione col destro a girare che la troppo arrivato anche zarola e quindi ferrari allarga di là bernardini alza il lobo cericola 1 2 che si chiude cericola va in porta la chiude galantini col brivido non c'è più tempo il laurentino vince contro il miglior appiolatino visto in questo campionato rimane con il fiato sul collo al totti il vincitore della regular season si deciderà all'ultima di campionato è tutto da gabriele cascella